Un momento storico, ma per storicizzare questo momento con questa comunità dobbiamo certamente legarci a quello che è un processo storico che già conosciamo bene, che è stato denunciato, che è la nostra questione meridionale, ma per fare questo dobbiamo, secondo me, diventare un soggetto politico. Io ancora non sento, chiaramente, da questa comunità, se c'è la volontà di diventare un soggetto politico elettorale. Noi dobbiamo entrare all'interno delle istituzioni, dobbiamo destrutturare il sistema che ci ha oppresso per tanti anni dall'interno delle istituzioni. Questo è l'insegnamento che ci viene da noti meridionalisti, quale Guido d'Urso. Guido d'Urso che diceva che finché non nasce una classe dirigente al sud, capace di essere intransigente ad ogni forma di compromesso politico, noi saremo servi, schiavi del nord e delle classi dirigenti del nord. Oggi io ho la domanda che pongo a questa comunità. noi vogliamo diventare un soggetto politico che operi all'interno delle istituzioni. Grazie.